Per molti anni la guerra nel Donbass è stata chiamata crisi, conflitto a bassa intensità, pur di non fare i conti con un conflitto che invece avrebbe per sempre cambiato la percezione di Europa in pace. Il Donbass, la vasta regione orientale ucraina che per anni è stato il traino del PIL del paese, da otto anni vede le linee del fronte sul proprio territorio, con popolazione sfiancata, obitori pieni ed isolamento economico. Un conflitto lungo, devastante, che costringe la popolazione all'estrema conseguenza di abituarsi alla guerra. In questi anni, come nei prossimi, ci saranno generazioni di bambini che andranno a scuola con cartelli che indicano come proteggersi in caso di bombardamento. Un'infanzia a riconoscere da quale mortaio arrivano le schegge fuori casa, ad abituarsi a vivere nei bunker. I beni di prima necessità scarseggiano. e le case con il tetto bucato resteranno così, come le infrastrutture un tempo luoghi di lavoro ridotte a macerie. Queste sono immagini girate qualche anno fa, sempre nel Donbass, con una guerra che nel frattempo si è stesa. Succede che un giorno sei nella tua squadra di calcio, da sportivo, e il giorno dopo sei in prima linea, a combattere per delle ragioni che ignorano. Se hai la casa al centro del conflitto, nelle zone grigie, in una guerra di posizione e lavoramento, la devi lasciare e guardare solo da una sponda, come Sasha. ti abitui pure a questo, pronto a fuggire nel bunker, al prossimo bombardamento. Grazie. Grazie. Grazie.